eh sono tornato ebbene si ragazzi siamo tornati sono tornato da berlino ifa 2017 questo video è per spiegarvi un po le mie impressioni perché è stata la mia prima esperienza nella fiera di berlino dopo aver fatto più volte quella di barcellona e quindi niente volevo raccontarvi un po come è andata che cosa ho fatto che cosa ho arraccimolato non so se vedete qua sulla scrivania io sto ancora giocando un po con le luci quindi abbiate piedità perché sto cercando ancora di capire di come ottenere il miglior risultato possibile immaginabile questo mi soddisfa così sulla telecamera vedremo intanto fatemi assolutamente salutare i miei amici mattia e serena mi è mancato un casino spero di vedervi presto come è andata? beh è andata benissimo ragazzi cominciamo subito col vivo del video perché è andata alla grande la fiera ifa devo dire che è davvero molto bella spettacolare tante cose interessanti è enorme ho camminato per chilometri ed è stato abbastanza stancante ma divertente grazie a mattia per avermi sopportato io ho sopportato anche lui perché è stato abbastanza pesante anche lui quindi non è che solo io serena invece era un po più solitaria a ifa quindi ci siamo un po divisi i compiti perché veramente le cose erano tantissime tantissime abbiamo fatto un sacco di eventi abbiamo visto un sacco di cose fighissime e soprattutto ho fatto conoscenze niente male io ho conosciuto i ragazzi di basement tech sì verrei che l'ho detto giusto vi lascio ovviamente il loro link nella descrizione anche se in realtà non hanno bisogno assolutamente della mia pubblicità però insomma per così almeno capite di chi sto parlando sono dei ragazzi veramente bravi io li adoravo li vedevo solo cioè li adoro anche adesso però adesso ormai siamo così quindi soprattutto con niche e niente quindi insomma per il discorso è stato che li ho conosciuti sono veramente simpatici ed è stato veramente un bel momento a ifa abbiamo fatto veramente tante cose più che altro eventi soprattutto i primi giorni il 31 l'uno sono stati devastanti io ho fatto un po di video purtroppo ragazzi io sono da solo quindi ho fatto quello che potevo c'erano avrei potuto filmare per ore anni e millenni solo che appunto essendo uno e soprattutto avendo i vari appuntamenti non ho potuto fare tantissime cose nel senso che arrivavo un po più in ritardo degli altri ovviamente perché o facevo gli incontri oppure ditavo e caricavo però vabbè insomma me la sono un po goduta ho fatto un po di video mi raccomando andatele a vedere ho fatto i vlog andatele a vedere perché meritano almeno spero fatemelo sapere comunque nei commenti se ho fatto cacare oppure sono dei vlog interessanti o comunque divertenti che è poi il mio scopo cos'altro ovviamente facendo vabbè i miei capelli rimangono sempre improponibili facendo i vari eventi siamo riusciti anche a prendere un po di cosine siamo andati un po in giro per ifa un po in giro per gli stand dove appunto hanno mostrato un po di tutto che cosa mi è piaciuto di più? secondo me la cosa più interessante è stata la stampante in 3d multicolor a 16 milioni di colore fdm nessuno l'ha un po cacata io ho la passione per la stampa 3d e quindi ovviamente ho capito o comunque ho colto l'innovazione che hanno presentato l'azienda xyz printing ho fatto anche un video al riguardo quindi mi raccomando ve lo metto qui nella scheda mi raccomando andate a vederlo perché merita secondo me davvero tanto l'altra cosa un po più magari interessante o più o comunque più bella per tutti i nerdoni è stato sicuramente l'lg v30 è stupendo lo voglio lo voglio lo voglio quindi lg sbrigate a mandarmelo perché lo voglio assolutamente testare samsung si ha fatto qualcosa di interessante l'altra cosa che mi è piaciuto tantissimo è il fitbit ionic anche qui ho fatto un bel video per raccontarlo insieme l'ufficio stampa comunque agli addetti ai lavori di fitbit che ringrazio tra l'altro per la pazienza perché è abbastanza lungo il video ma merita perché è veramente molto molto completo e vi racconta esattamente tutto quello che fitbit ha presentato durante ifa 2017 tornando ai pacchettini ovviamente come dicevo prima andando in giro non ce la faccio ragazzi devo assolutamente prendermi un cerchietto hashtag cerchietto abbiamo siamo andati un attimo dicevo alla ricerca o comunque facendo i vari appuntamenti le aziende ci hanno regalato qualcosa volevo mostrarvi che cosa sono riuscito a portare di interessante da ifa 2017 partiamo un attimo dalle cose un po meno interessanti ringrazio tcl per questo bellissimo power bank solare non l'ho ancora provato da ben 4000 mAh quindi bene ma non benissimo vedremo lo testeremo ovviamente internamente non direi che non è il caso di fare un video fossil ringrazio tanto per questi due accessori soprattutto io non l'ho ancora aperto in realtà perché non ho avuto tempo soprattutto lo volevo fare per il video per questo regalino questo è un gift che ci hanno dato che ci ha dato l'ufficio stampa quando abbiamo fatto l'incontro molto interessante molto bello grazie è un porta penso tessere anzi sicuramente porta monetine in pelle quindi assolutamente niente male ci sono speravo ci fossero 5000 euro in contanti ma purtroppo no però molto bello in pelle vera bella e morbida e poi ci ha regalato anche questa cosina qui che credo serva per fare tipo da trepiede per il telefono ok quello più interessante per me nel senso che sono un po' un appassionato è stato Razer che ci ha veramente dato un sacco di cose e direi di partire da questo che ovviamente li ho già aperti perché dovevo vedere cosa mi avevano dato speravo di avere un blade e invece mi hanno dato un porta anzi un coso per fare i ghiacci a forma di logo Razer bellissimo ovviamente li farò e li utilizzerò poi ci hanno riempito di tasti nel senso che in questa scatolina troviamo ve lo faccio vedere un porta chiavi ok ce l'ho fatta perché esatto dovrebbe simulare il croma delle loro tastiere che poi il loro mega simbolo ah paura guardate bellissimo che figata non è non si riesce a mettere a fuoco non mettere a fuoco me bellissimo stupendo questo poi qua dentro altri bottoni questo è anche più interessante perché ci fa capire la qualità dei prodotti Razer quindi ci fa capire la differenza dei vari tastini che troviamo sul mercato troviamo vediamo se anche qua sì anche qua abbiamo un sacco di scritte not for sale mi fanno sempre gasare un cifro anche qui abbiamo un sacco di tastini e ovviamente il croma eccolo qua vediamo se riusciamo a mettere a fuoco e questo come potete leggere ci fa capire proprio la differenza fra i vari tasti di Razer quindi molto interessante per capire rumori e meccanismi bravi ultima cosa ma non ultima in questo scatoletta c'è un botto di roba innanzitutto andiamo ad aprirlo dei tatuaggi che io credevo fossero estinti i tatuaggi per la pelle in realtà Razer ne fa ancora non credo di farli questo che è fighissimo e devo assolutamente metterlo sul sulla porta del mio studio dove sto registrando adesso guardate che figata credo sia uno sticker qualcosa del genere che metterò da qualche parte è un cartoncino sotto bicchiere può essere però in cartone quindi si bagnerà dopo 30 secondi un porta pass che in realtà io me l'ho già fatto dare perché era troppo bello e me lo sono sgraffignato e poi questo da mettere magari in una borsa remove before fight stupendo ultimo ma non ultimo l'altra tamarraggine è questa placchetta in metallo plastica no metallo sicuramente di Razer super tamarro che io vorrei mettere tanto ma poi verrei picchiato a sangue quindi forse me lo lascio qui da qualche parte questo è quanto Razer ci ha dato come doni ragazzi veramente parrucchieri all'ascolto venite già ne ho pochi però quei pochi che ho mi rompono anche andiamo avanti perché nokia ci ha dato abbiamo fatto fatto per nokioteka dei video interessanti almeno lo spero ho fatto anche una bella chiacchierata con pecca mi raccomando andatela a vedere sempre qui vi metto il link se riesco perché non ne sono sicuro al massimo in descrizione queste cuffie bluetooth anche queste devo dire che mi ha particolarmente stupito riceverle perché non pensavo comunque non sapevo che nokia avesse fatto degli auricolari bluetooth eccole qua cuffie bluetooth e in qualche modo ecco qua riesco a tirare fuori le cuffie bluetooth per andare ovviamente a correre perché sapete io sono un amante della corsa e quindi non è vero ovviamente comunque cuffie bluetooth interessanti da provare in giro per milano grazie nokia davvero anche molto belle non devo dire che non sono assolutamente di bassa qualità anzi sono molto molto belle con mega tastone nokia per andare a ovviamente utilizzare penso con la musica nel senso per andare avanti con la musica insomma mi avete capito poi ultima cosa di cui vi volevo parlare è di anchor che ringrazio tantissimo per avermi dato l'opportunità di provare questi prodotti proprio prodotti che sono quasi praticamente in anteprima perché sto ridendo questo è eufy che è l'assistente cioè è un marchigegno per sfruttare la potenza di amazon alex e questa è una lampada che ovviamente va a interagire con lui perché rido perché quei poveri ragazzi di anchor hanno cercato di mostrarci il funzionamento a dire semplicemente come c'è scritto qua alex accendi la luce o alex spegni e riproduci la musica ma non capiva e non funzionava e quindi purtroppo non abbiamo visto se effettivamente funzionasse detto questo lo proverò mi sono mi hanno regalato questo kit lo proverò a casa quindi non lo studio e poi ovviamente non credo vada bene la lampada perché quella lampada monta delle lampadine più piccole credo lo proverò se dovesse funzionare comunque troverò un modo per ovviamente portarvi poi la recessione completa e farvi vedere se effettivamente funziona questo po po di cose non ho informazioni perché è un prodotto nuovo di anchor e quindi insomma quando quando avrò più informazioni comunque adesso vado un po sbriciare su internet andrò un po a vedere come funziona e quant'altro e insomma ifa è stato veramente bello ci vorrei tornare ci tornerò sicuramente l'anno prossimo almeno con ci spero mi piacerebbe tornare magari con qualcuno con un team quindi mi raccomando se siete interessati a venire con me a ifa mi raccomando scrivetemi scrivetemelo qua nei commenti e perché no magari ci possiamo mettere d'accordo per una collaborazione anche pre ifa insomma per aiutarmi un po a gestire le cose che per fortuna sono tante io purtroppo non ho tantissimo tempo insomma direi che per il momento è veramente tutto ringrazio ancora serena e mattia per avermi è andato tutto fuori fuoco fantastico wow affuocati dicevo salutoni a mattia e a serena che hanno condiviso con me questo bellissimo viaggio io vado a spaccare i miei capelli un saluto da francesco colonna mi raccomando iscrivetevi condividete se vi è piaciuto il video insomma fatemi un po di pubblicità perché ormai i miei amici stanno salendo e io sono ancora un po bassino quindi mi raccomando aiutatemi e direi che è proprio tutto ciao a tutti